L'Italia, prima di con le navi di vicini dell'altra volta, l'Italia ha già ospitato 90.000, ha ragione, però ha detto che l'Italia non sarà l'unica forza per entrare in Europa, gli altri non fanno niente. Tu sei francese, io. Sì, ma però ha ragione sto dicendo, perché io mi piace la politica, è vero che Marilla Pena... E in Italia ti trovi bene? Sì, sì, però mi ricordo che Marilla Pena è un po' legato a Salvini. Mentre quando me ne ha vinto, sono molto accogliente perché lì pensavo che Salvini doveva arrivare al potere. Grazie di avermi fermato. Ma io sono apposionante della politica. E l'ho capito. Sia l'Italia, della centrodestra. Grazie per avermi chiesto la forza. Meno male, con ciao. Centrodestra. Ciao.